Lo strumento che abbiamo presentato oggi, il Fondo Immobiliare, per realizzare nuovi edifici scolastici e al contempo rigenerare immobili pubblici altrimenti destinate all'abbandono, consente ad ogni comune italiano di fare investimenti importanti in questi settori senza impattare sulle finanze pubbliche, quindi senza generare debito. Crediamo di aver lavorato bene in questi anni da quando è nato questo strumento nel 2012 e aver reso maturo uno strumento che spesso i ragionieri dei comuni vedono come difficoltà. Oggi siamo nelle condizioni di presentare i primi sei comuni che lo sperimentano e che davvero otterranno risultati in tempi brevi, in 18 mesi, nuove scuole ed edifici rigenerati.